Buongiorno, buongiorno, benvenuti, salutiamo tutti gli amici, tutti tutti che si sono messi in contatto con noi, salutiamo Mauro Ferrari, buongiorno, benvenuto, oggi parliamo di cose interessanti, importanti, ci diamo la cultura, bello, è tanta roba. Quella con la K? Con la K sì, sempre quella, con quella cultura non si mangia, come si dice, però noi vogliamo divertirvi, comunque interessarvi con la cultura. Intanto, between the sheets, perché è sotto le coperte. Allora, un grado, che ormai è diventato un classico, stamattina però sembrerebbe non esserci nebbia, perché... Sì, ieri c'era un po' di nebbia e tra l'altro ieri c'è stata la famosa nevicata epica. Ha tentato anche da voi. Sì, anche da voi. Sì. Io me la sono presa, col poco che ha fatto, me lo sono preso per strada, poiché è una roba ridicola, perché è stata veramente... Sì, è tristissima. Guarda quanti amici abbiamo già. Marco Gagnolati, buongiorno, buongiorno. Margherita. Buongiorno, buon inizio. Buongiorno, buongiorno. 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 Vuole che ti restituiamo. Siamo l'intero di ritorno. Vuole che ti restituiamo per sé. Come sei arrivato? Sì, vuole che restituiamo per sé. Tu marito. Sì, esatto. Non c'è tanti libri. E poi ancora Patrizia Garone, buongiorno. 15. Bene, bene. Bene, bene. Sta aumentando la temperatura, Amamette. Adesso farà il primo rally di Amamette. Lei? Sì. In bicicletta? No, no, no. In macchina. Ah, proprio... In macchina storica. Ah. Tanta roba. Tanta roba. Mario Boydor invece col track. Con track storico. Segue col track. E intanto Corriere della Sera, prima pagina è questa. Sì, è la stampa. Bene. Con Mauro, volevamo... Cominciamo a introdurre, poi tanto ne parleremo tutta la puntata. Volevamo parlare, aiutare i nostri amici, che magari sono lontani da questa realtà, a parlare di poesia o capire... Allora, faccio un passo indietro. Bravo. Mi ha avuto questa idea perché andando a una presentazione di libri, di poesia, organizzate da loro, dal punto capo editore, sono rimasto affascinato da un altro modo di vedere la poesia. Non leggerla semplicemente e capire se c'è la rima o c'è un contenuto, ma anche la fonetica, i suoni, il valore dei suoni. Parlando con Mauro, c'è avuto in mente di dire, fa vedere anche a voi, che cosa c'è dietro la lettura di una poesia. Non solo... Cosa c'è dietro il mondo della poesia? Perché? È abbastanza paradossale, no? Perché è un mondo che coinvolge milioni di italiani a livello di scrittura, a livello amatoriale, ma che poi è quasi invisibile. Mi dicevi prima la cosa che... È visibilissimo perché su internet sta a digitare un nome qualsiasi, attaccato a poesia e salta fuori tutto, ci sono centinaia e migliaia di siti, però poi quando si va, non so, a libreria a cercare i libri di poesia, anche delle collane più affermate, storiche... Sono relegati nell'angolino? Sono relegati nell'angolino o non ci sono? Non ci sono proprio. Parliamo di poesia contemporanea, anche quella classica, a volte insomma... Anche quella del Novecento... Tale in giù, insomma... Non è così visibile in teoria. Non si trova. È una casa editrice votata, per la maggior parte, alla poesia. Deve entrare in un mondo complesso che è un po' ai limiti del mercato, perché appunto c'è tanta ritorno intorno alla poesia, no? Io dico sempre, dal classico assessore alla cultura che parla dell'importanza del centro della poesia, che è vero. Sul palco, col dito. Esatto, e poi la domanda, ma quanti libri di poesia contemporanea hai in casa, che non sia Dante o Livi Scolastici, ovviamente si tende a zero. E non c'è neanche da piangere, perché la poesia è sempre stata così, non c'è mai stato un momento in cui la poesia ha venduto. Ci sono stati dei grandi poeti, che sono stati dei grandi personaggi culturali, cioè citare d'annunzio... Sì, sì, ma anche Montana... Non è più così. L'ultimo è stato davvero Montana. Sì. Ma se guardiamo ai programmi scolastici, una banalità che io continuo a ripetere, perché è talmente grossa che nessuno la vede, è che gli esami di maturità di oggi, 2022-2023 addirittura, sono gli stessi come programmi. Sì, sì, sì. L'hanno fatto io nel 78. È vero, è vero. Sono 50 anni che... Non so, poi se si parla di Montale, il primo Montale di Rossi di Seppia del 25. Rossi di Seppia, che è in parte centrale, sì. Ho commentato Cicola, la catacola nel Pozzo, Montale era ancora lì. Ahimè. E oggi, così ancora... A proposito di ancora lì, abbiamo da salutare, perché ci hanno raggiunto... E usò Bacugliolo. Bacugliolo, Giorgio Repetto, Serena Tettoni... Serena Imperatrice. Serena Imperatrice. Una poesia di puntata, detto. Ah, sì, domani sì, è una puntata poetica. Sì, sì, sì. L'oroscopo. Parleranno le stelle. Più serena. Più poetica di così. Ok, ci sta. Dai, ognuno poi ha la sua visione. Sì, esatto, io ne ho un po' di diametro metto opposto, ma... Ma stia zitto. Ma no, ma dai, la poesia... Lei non ha capito l'importanza che abbiamo con Serena Imperatrice di... Sì, no, è personagione, però... Un personaggio internazionale. Non so. Lei ce lo sogna. C'è Roberto Gambone. Buongiorno, Roberto. Ciao, Roberto. Benvenuto. Dici com'è andata a finire poi ieri. Che sera ci siamo presi il caffè insieme. Ah, ovviamente... Eh, beh, certo, eh. Eh, sai, eravamo là e gli amici io li accolgo sempre volentieri. Eh. La poesia, ecco. Noi siamo tutti, appunto, parlavamo della poesia storica. Poi ci hanno tante volte fatto odiare perché certi professori antiquati ci spiegavano. Ma la poesia, intesa come insieme di suoni, io non l'avevo mai interpretata in quel modo. E certe poesie, più che l'immagine in sé, hanno una sonorità pazzesca. I suoni, il ritmo, il modo in cui la sintassi gestisce il significato. Cioè, la poesia è il linguaggio sfruttato alla massima potenzialità. Perché in genere si tratta di uno spazio limitato in cui si può fare un lavoro di fino, di assoluta qualità. Misurare ogni accento, misurare ogni vocale, dove cadono gli accenti, come si va a capo. C'è una tecnica che non è la versificazione, non è la metrica. No, no, no. È una tecnica che ha molto a che fare con la creatività, per fortuna, insomma. Come difendi una poesia? Cioè, io ho sentito molte volte giovani poeti o perlomeno appassionati di poesia che poi dicevano, ah, ho pubblicato una mia poesia e mi è stata modificata? Modificata, ecco. Modificata, plagiata. Dunque. Come la difendi? Come difendi un libro di poesie di un autore ben preciso? Beh, se mi arriva come proposta di pubblicazione è un lavoro delicato perché o si accoglie più o meno il suo complesso o no. Se invece hai sotto mano una poesia devi leggerla, rilegggerla, valutare attentamente cosa ci dice l'autore. Perché la poesia ci dice qualcosa, insomma, c'è il modo in cui lo dice. Certo. È tutto lì spesso. Può essere solo un esercizio di stile? No. No? Ecco, ma andate a controllare, quando vi arrivano, andate a controllare che non sia stata plagiata dalla poesia di qualcun altro? Guarda, sinceramente no, nel senso. La poesia è talmente una cosa intima, cioè nasce veramente dallo strato più interno, più intimo di una persona, che l'idea di copiare una poesia, fare un calco, può capitare, come capita in musica, può capitare che ci sia quello che suona, spesso viene citato, ma come in poesia, intanto troviamo il plagio, il plagiatto, certo c'è il plagio, ma in poesia è gravissimo, nessuno si approprierebbe almeno di una poesia di un altro, rischerebbe alla fine. Cristina ha detto che ha fatto una bella domanda, una domanda complessa. Dice Roberto che è stata una puntata bella, ieri c'era stato un talk show. L'ho chiesto questo, così rispondo anche a Cristina, perché frequentando un social dove la voce, l'ho fatta padrona, perché c'è solo voce e non c'è video, c'è una, lì si chiamano lungo stazze, una stazze che parla di poesia, questa stazza si chiama la radio di pezzanotte e lì chiunque può declamare una poesia, una cosa e c'è. Ogni tanto qualche d'uno gli si chiede, ovviamente, di chi è questa poesia e lui dice mia. Come fai a superare? No, 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 ma a me se non concesso che sia sua, in alcuni casi qualche d'uno di queste persone con delle poesie anche molto belle, molto sentite, è stato chiesto ma perché non la pubblichi, perché non ne fai una collezione e molti di questi hanno risposto perché feci un libro anni fa e poi me ne hanno copiato alcune. Ne so, io questo non ti so dire. No, no, però ecco da dove partiva un po' la cosa. Dopodiché è chiaro che poi gioca anche il testo, la voce, il coinvolgimento. Sì, ma quel mondo della poesia, chi segue la poesia è davvero molto esperto, molto coinvolto ed è bravo, conosce più, è difficile che passi al vanno. L'altra domanda è che mi viene spontanea, è gli audiolibri. Funzionano nella poesia perché dovrebbe essere il massimo, no? Guarda, al di là del successo che hanno avuto per la prosa, per ascoltare in macchina, per me l'idea di ascoltare poesia tramite un audiolibro suonata davvero strana. La poesia è fatta di suoni ma va anche vista sulla pagina, richiede più concentrazione. È difficile dire, cioè io posso leggere tre ore un libro, possiamo leggere un libro di narrativa per due ore, tre ore. In poesia, a meno che uno non abbia motivo… Ma certe voci a volte enfatizzano in maniera particolare la poesia. Quello sono d'accordo anche con Riccardo. Ci sono delle persone che leggono le poesie e te le fanno gradire, cosa che magari tu da solo non riusciresti a… Ma come le letture di poesia, si fanno tantissime letture di poesia, noi ne facciamo, noi ne faccio… Secondo me sono proprio identiche alla lettura, perché oltre al fatto che si sovrappone alla qualità del testo che c'è, si sovrappone alla qualità del dicitore e questo cambia davvero molto. Tanto che a volte non si capisce qual è il valore vero, se uno lo legge bene o male. Però poi alla fine la poesia va letta, la poesia è libero, la poesia è libero. La lettura è ottima perché conosci l'autore. Deve avere la tua poltona, la tua luce giusta e metterli sul libro a… La poesia è una banalità, è una retorica, ma è vero, come sulla pagina circondata di bianco, la poesia è circondata da silenzio, bisogna leggerla in silenzio, magari la macchina mentre seguiva. La formazione mi piace. Non ho d'alta voce. Beh, si può, beh sì, ultimamente io levo la lettura era d'alta voce. No, certo, ma tu nel momento che leggi una poesia non la legge d'alta voce. La leggo in testa, ma la leggo come sentendo i suoni nella testa, non la leggo mai d'alta voce, ma mi rendo conto di come sono i suoni… Io sono molto visuale, però chi legge poesia deve immaginarsi anche i suoni. Ma Cermelo apprende o comunque elabora in maniera diversa l'udito e la vista, quindi queste sono tecniche che insegnano anche nel… Noi abbiamo qua due poesie, no? Vogliamo dare, Cado, due notizie adesso e poi torniamo sulla poesia. Entriamo, usciamo, non arrivano degli altri amici, restate qui perché comunque ne parliamo di poesie. Allora, è chiaro che adesso tutti dicono ma com'è possibile che non ci sapesse, non avete visto… Sì, la domanda sono di spontanea. 30 anni a casa con tutto, due telefonini, abiti, scarpe, orologi… Quel montone che aveva dosso di Gucci, 10.000 euro… Il che fa pensare alla vita comunque anche pubblica, no? Sì, civile. Ecco, ma io mi permetto per aver avuto un compagno di… Lattitante? No, non era lattitante, ma un compagno di… Di merende. Che diceva, bisogna vivere in certa realtà, bisogna conoscerle. Suo padre era stato un pentito di mafia, uno dei primissimi pentiti di mafia, che avevano messo il collegio, nella speranza che comunque pochi si sapessero, ovviamente al nord, ovviamente in un collegio dove, a parte il collegio c'era una tabaccheria, una lavanderia, c'erano proprie deutiche al collegio, un bar che lo era meno e poi nulla, avevano le buche, eccetera. E quindi una cattedrale nel deserto, come veniva chiamata, no? E due strade per cui, se qualcuno arrivava… Lo sapeva. Si, si sapeva perché una strada entrava da un appanto, un'altra… E un fiore dall'altro… Quindi… Heidi. Heidi. Sì, sì. Sì, sì. Quando ti dico una cattedrale nel deserto… E lui diceva, bisogna vivere una certa realtà, perché mio padre ha avuto la voglia e il coraggio di farlo, ma lui sta facendo una vita d'inferno, non ci ha mai detto, non ci ha mai spiegato dove, come, quando, ma lui non si ridà di nessuno. Aveva un fratello delle scuole cristiane, quello era l'Italio che portava avanti questo collegio, che lui si ridava solo di quel fratello lì, perché era un uomo del sud che probabilmente si erano parlati, si erano capiti… Certo. E lui diceva, non so se io fossi stato al posto di mio padre, se io avrei fatto quella scelta, perché oggi tutti noi viviamo male. Di pentirsi, dice. Di pentirsi. Quindi, quando ti trovi nella situazione stretta, con una famiglia, con delle cose, eccetera, un conte se puoi far finta di niente te ne vai, ma se hai partecipato, se hai… cioè, giustamente, trent'anni di latitanza non li tieni senza una cortina di… Ma infatti hanno già restato la sorella, i fratelli, i parenti, i cugini, i madri, i nonni… Sì, sì, i medici. E non ci sono adesso, perché quelli di più ma no. Però, ecco, gli hanno anche fatto il terremoto. Cioè, voglio dire, il medico che gli iscriveva alla ricetta a nome di un altro, vuoi che non lo conoscesse, lo conosciamo io. No, sicuramente. Ecco. Allora, però, laddove non c'è lo Stato, dove lo Stato è secondo, lui ci diceva che lo Stato lì è secondo. Certo, certo. Non è primo, è secondo. E, ovviamente, l'unico sistema perché lo Stato sia primo è aprire delle aziende, delle industrie, delle cose che possano combattere in modo pesante… Anche che lo Stato intervenga, perché leggevo dei dati che sono sui controlli dell'Inps e dell'Inail al nord e al sud. Al nord hai una probabilità, un'azienda ha una probabilità ogni sei anni di venire controllata da un ente certificatore, finanza, Inps, Inail. Sì. Al sud, 45 anni. Certo. Vuol dire mai. Mai. Quindi, capisci perché al sud c'è tanto nero, perché c'è tanto lavoro nero, perché non c'è controllo. A questo punto, se non c'è controllo, la mafia controlla e lei cresce. Semplicemente. Posso dirvi che essendo andato per tre anni di seguito al Maribu nella determinata località di un'isola. Quindi, isola. Io avendo, ahimè, avuto bisogno per tre anni di quel tipo di struttura, per tre anni c'era il registratore di cassa rotto. Sì. Esatto. Sempre l'estate. Sempre l'estate. Ma è cambiamento di stagione. Sì. L'umidità. No, ma... Quindi, quando queste cose sono strutturali, palesi... Cioè, sai, dici, vabbè, è capitato una volta. Il secondo ando dici, ma... Che sfortuna che sfortuna. Il terzo, dici, allora ero staccate proprio, cioè... E se questo è permesso, è permesso da... Ti racconti quando abbiamo fatto quel programma per radio per cui ci hanno insultato? Abbiamo scritto anche un articolo sul Fatto Quotidiano. Sì, sì. Ci hanno insultato in tutto il sud, nel quale riportavamo dei dati in mano al Ministero delle Finanze che valutavano nel 65% di giro d'affari e vaso in certe aree del sud e nel 7% in tutto il nord, no? E lo sapevano loro. Mi ha detto, no. Quindi, se lo sanno e continuano così è perché non vogliono andare a prendere. perché se sanno che da noi il 7% e metti tutti questi controlli nel sud, è il ragionamento che stai facendo tu. Questo pro di Cassa non poteva stare tre anni in otto se fosse stato il nord. Poi ti venivano... Anche gli stessi cittadini ti avrebbero... Uno ti avrebbe segnalato e ti venivano massicrati. Sì, ti segnalavano un cittadino. Prima che trovi 40 là, no. Un po' c'è la paura, un po' c'è la latitanza dello Stato. Cioè, quando tu senti che lo Stato non risponde, ti trovi in una situazione che dici, ma cosa faccio? Si appoggia quello che c'era prima nello Stato. La mafia è una rinca di collegamenti secolari. Quindi, io spero che trovino tutto quello che devono trovare, trovino i rapporti, le cose, eccetera, sono connivenze che non... Ma si danno per scontate. Se uno resta latitanza per 30 anni, le condivenze ne hai aiose. E poi lì sono anche condivenze molte. No, anche perché... Uno che sta ancora con una donna incinta con le sue mani è capace di fare di tutto. E quindi tu vai a metterti contro uno così. Uno che ha sciolto un bambino nell'acido. Eh, direi che... 60 anni. Direi che comunque la situazione è quella. Intanto si sta sviluppando, scusate, una discussione sui social. Margherita Grimaldi ha detto che è bellissimo il Festival Internazionale della Poesia di Genova. Ah, sì. E il nostro supporto remoto, Cristina, dice che è vero, che è bello, è mai diffuso tutto l'anno, con incontri di qualità, uno sguardo internazionale che va ad arricchire il panorama e lo scambio di idee. Sì. Questa è un'idea, ecco, gestito così, che dimostra come anche la poesia, ben gestita, la cultura, in questo caso la poesia ben gestita, può arricchire una città, un territorio... A Genova, Claudio Pozzani ha organizzato dal 95 la funzione e pian piano si è ingrandito, fino a diventare una cosa diffusa tutto il mese di giugno in tante località di Genova e della Liguria, a livello internazionale... Quindi anche Novi Ligure. No, noi andiamo... Andiamo... No. Qui ci vuole, invece all'inizio ci vuole un'amministrazione che creda nel progetto e poi pian piano questi progetti vanno avanti, non dico da soli, ci vuole un'amministrazione per gestirli, per portare avanti, però diventano dei punti di riservazione. Se ce ne siano molti, siamo andati a Pordenone a settembre, c'è il Festival di Mantova, ce ne sono altri minori, questi sono tre centrali di poesia, c'è Genova e Pordenone legge che è ancora più grande, una cosa immensa. In Pordenone. Immensa, immenso. Ecco a dire. A Pordenone, ecco, una città meravigliosa, piccolina. Come Alessandro, diciamo, come bacino. Ci siamo trovati davanti, prima volta, c'è da tempo, ci siamo trovati davanti una realtà, io direi meravigliosa, su cui si può parlare troppo facilmente, un'organizzazione incredibile che coinvolge centinaia di persone. Basta pensare che ogni casa di Pordenone ha la bandiera gialla con Pordenone legge, ogni casa ha i paesi vicini. Solo quello ti dà l'idea. In ogni luogo un sabato ci possono essere cento eventi di poesia e fuori dalla porta ci sono uno, due, tre studenti che gestiscono il resto che gestiscono. Quindi anche la popolazione è patria. La popolazione è incredibile. Beh, ma loro hanno, vuoi torci il tema, anche nelle adunate degli Alpini, lo vedi? Eh, sì. No, no, ma sembra banale dirlo. No, no. Ma... Sono cifre, forse, no. Sono abituati, sono abituati un po' al sistema teutonico. Beh, sì. Avere un capo, fidarsi del capo, se il capo decide si fa così. Ci vuole sempre un gruppo di persone. E tutti pronti a seguirlo, no? Sì, sì. Così diventa più facile. La volta che hai creato l'evento per la località, poi la gente partecipa. Purtroppo il problema è quello. Non è che partecipano tutti per creare l'evento. Se c'è l'evento partecipano. La cosa che mi ha stupito, che ci ha stupito perché sono andato con Cristina, la cosa che mi ha stupito è stato che se arrivavi all'ingresso un'ora di inizio non trovavi più posti. In sale da 50 a 100 posti. Pensa. Ci abbiamo trovato dei cinema pieni mentre c'erano in città altri 10, 12, 20 e tutti con pubblico. Cioè io credo, se parliamo comunque di qualche decina di migliaia di persone che sono andate a vedere un po'. E poi parliamo di poesia. Non di un cinema con l'attore di Hollywood. No. Parliamo di una presentazione, per esempio il libro di Gusterna a Tremanumi con 50 persone mentre contemporaneamente altri 10 posti avevano tutto esaurito quasi perché ci siamo trovati la porta chiusa davanti. Pensa. E noi con Mauro Ferrari, per chi ci ha messo in contatto oggi, parliamo di poesia ma la poesia cerchiamo di spiegare perché avvicinarsi la poesia. Una parte sarà la spiegazione, una parte sarà la lettura, approfondimento. Esatto. Esatto. Tanto la seconda parte sarà dedicata sostanzialmente a un paio di letture e poi ragioniamo insieme su quello che veicolano perché noi siamo veramente dentro gloditi. C'è il vantaggio che se noi andiamo a saltare le prime 12 o 13 pagine del giornale non vi perdete nulla perché stanno parlando di questo resto di Messina di Naro. Allora io mi trovo divertente. La prima cosa è che il suo quello a cui lui aveva rubato l'identità che noi si conoscono quando erano baffini questo buonafede ha detto i soldi della casa per le dati fuori. Certo. E poi hanno iniziato a parlare del tesoro di questo uomo. Si parla di 5 miliardi. Allora. Impianti eolici per 1 milione e 500 mila confiscati già a Vito di Castre. Edilizie e costruzioni 532 mila. Oltre 6 milioni di euro di valore in aziende edili terreni, fabbricati e depositi bancari. 3 milioni di euro di beni, 4 conti correnti, 23 mezzi, 7 appartamenti di terreno e la sua impresa edile confiscata nel 2017. Movimento Terra, 5 milioni, sequestrati già nel febbraio del 2016. Ma allora, stimato dei beni sequestrati il 2 agosto 18 in alberghi di turismo. Si, infatti. Ecco, una bella tua. Parla di 5 miliardi. Si, voglio dire che sono le palle eoliche. Si, si. No, invece nessuno di parchi eolici sta spavolando e sembra che stiano spavolando proprio grazie al nostro spavolto. Grazie. Allo spavolto. Tutto dove non ci sono le aziende. Sì. Vuol dire che vendono. Perché se a questo punto ci inversano aspetti. Il traffico di beni archeologici, con valori inestimati. C'è fuori tutto lo sport. Trasporti marittimi. Questo è pulito. Sale, slot e scommesse. Ma queste giocattole. Grande distribuzione confiscata nel 2013. Cioè, molto era già stato confiscato ma… Ci avevano raccontato come la grande distribuzione serve alle riciclare, alla barra. Questo è qua. Saluto Maurizio Dori intanto. Buongiorno sindaco. Buongiorno sindaco. Il sindaco di Valenza. Ah? Sai, non possiamo… Ecco. Sì, quello chiamavano. Ah no, dai, dai Roberto. Ma vengo questa per evitare la coerenza. Ma non è detto che… Non è detto che non ci sia una suonanza. Intanto, velocemente, Macron e Meloni si sono sentiti telefonicamente. Sembra che si parli di Unione Europea per farla intervenire sui clandestini. Addirittura si arriva a ipotizzare una modifica del Trattato di Dublino, quello che impone l'attribuzione della cittadinanza o comunque la registrazione del primo paese di sbarco e quindi poi quelli restano lì perché nessuno li vuole sbarcare. Abbiamo visto la Francia li ha fatti sbarcare in un territorio extraterritoriale inventato sul momento pur di non applicare il Trattato di Dublino. Non li vuole nessuno. Adesso vedremo come la giusteranno. Si è capito perché Giuseppe picchia tanto sul reddito di cittadinanza, sulle ristrutturazioni costo zero perché l'altro anno ha avuto solo 34 mila euro di reddito. Giuseppe Giuseppe. 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 34 mila 095 euro di reddito. E quindi capisci perché lui è interessato a vedere se c'è l'interanza. Perché come fai a valcanza e a cortina con un reddito così? Hai bisogno di un extra gettito. E quello potrebbe aiutarti a fare un po' di vacanze. Cioè lui ha detto ho raggiunto la famiglia. No? Se ben ricordo. Si è congiunto. Era la famiglia che pagava. Dicono di sì che aveva pagato la morosa. Eh ma dicono anche che Guadalbergo fosse del padre. No, no. Era della catena. No, no, no. Però dato che si conoscono, che sono catene collegate. Si, si, si. Dicono così. Poi seguono. Va bene. No, no, no. No, perché in effetti se considera che lui ha dato fino a cortina, con quel reddito lì… La benzina ci si andava tutta. Eh. Ma è stato… Si è dedicato allo stato, alla politica. No, no. Paghiamo noi. Attenzione perché… Si, c'è la scorta. C'è la scorta. Eh, infatti. Perché tre… Andiamo veramente veramente… L'interno ha deciso che c'è la scorta. Andiamo veramente bene. Sto… Non vi sto tediando con i nomi dei like del CSM, perché è una cosa che probabilmente vi interessa relativamente. Pansieri e Catargate… Pansieri si sta pentendo, l'ex deputato PD che è stato beccato con le mani nella mamellata, è un accordo con il PM, solo un anno di carcere, può che dica a chi ha dato i soldi. Ecco, vorrei che anche tu facessi una cosa come ha fatto Maniaci. Si. Il famoso giornalista di inchieste sulla mafia di Telegliato. Si. Che aveva detto, tempo fa, se catturati il boss rinuncio ai baffi. Ah, si ho visto. Ieri l'ha fatto in diretta televisiva. Si, si. Allora, io faccio una dichiarazione in TV, se andiamo su Canale 5 o sulla RAI a fare la nostra striscia quotidiana, mi taglio la barba. È la stessa cosa. In proporzione, prendere messina di Naro o andare sulla RAI… Se vogliamo andare sulle reti nazionali? Si. Una a rete qualsiasi. Una a qualsiasi, però nazionale. Anche 8, va bene. Anche la 7, si. Anche la 9. Si, si. No, adesso provo a fare domande. Volevo… No, domande invece ne faccio… Ma metà barba, solo metà. Anche metà. 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 Si, però andiamo sulla RAI. Strescia quotidiana. Strescia quotidiana. Strescia quotidiana. Ho 700-200 persone, Simone. No, volevo farti solo una domanda. Secondo te, Robert Bardock, 90 anni, che sei fidanzato con uno dei 65, è amore o finiti solo di amore? Ah. Grande amore… Io credo che finiti solo di finito amore, no? No. È che lui è anche un po' ciula. Ah, ciula? Ciula. Allora, visto che sono le 8 e 03… Si, esatto. Vorrei che il rullo di tamburo… è sempre l'ora di un buon caffè… è sempre l'ora di un buon caffè… mi è piaciuta questa… era molto ecclesiastica. Molto. Eh? No, lei non ha mai uno che le va bene. Non ha fatto la foto agli occhi suoi. Non le va mai bene niente. No, Barbara pensa come me, ti dico. No, però non la dice. Ma posso essere educata… Ci permette… Ci permette… Ci permette… Ci permette… Ci permette… Si, si. Fantastico. Ok, ragazzi… Dile, Gregoriano… Ma tu sei che mi capisci… Roberto, tu sei la mia robina… Sei veramente un santo… Ma è bello che Roberto domani commenta anche positivamente l'oroscopo. Cioè proprio è uno che lavora contro di me. È uno che lavora contro di me. Ragazzi, due minuti di pubblicità e torniamo. Dopo parleremo di poesia, ma ne leggiamo anche un paio così capirete di cosa stiamo parlando. La storia è far away when you're here with me. I should just enjoy this time. In case we end up leaving all this behind. I just need to… Five color bells, sweet silver bells. All seem to say, throw cares away. Christmas is here, bring in good cheer. To young and cold, meek and the bold. Deep running from loud as the song. With joyful ring, whole caroling. One sing to hear, words of good cheer. From everywhere, Dillipian. Oh mother tongue, raising the song. Oh Dillipian, Dillipian, Dillipian. Dillipian. E? Oh Dillipian. Yeah. Yeah. Oh Dillipian. Oh Dillipian. Oh Dillipian. Oh Dillipian. Oh Dillipian. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Cose di cui potresti pentirti Ecco direi che La discussione ecco qua La nostra è Greta Grazie Questo ci vuole sempre Comunque Margherita ti volevo bene Io di più Poi hai scritto questa cosa E forse è cambiato Facci le fare il sentito Adesso Ah tu mi piace più perché Non dicono le cose che vuoi tu Ah No però dai Scusa subito Margherita Con tutte le cellule che ci manda Chiedi scusa L'hai sentito Il dubbio che mi viene Vado via Scusa Il dubbio che mi viene Che ci sia l'audio Un po' taroccato Che funzioni di nuovo male Perché per dire delle cose così Sia Roberto che Margherita Mi preoccupano Cioè magari non si sente Magari si sente Un'interferenza Magari Albano che canta Aspetto le scuse Stavo prendendo il caffè Parlando di poesia Prendo l'estro di Margherita E volevo Hai portato due poesie Poesie Volevo che ci raccontassi Che ci spiegassi Ci illustrassi davvero Che cosa vuol dire Una poesia che fa pensare Una poesia Io Una scelta Uno o due Sì Dunque Innanzitutto Leggo da questo Milo di Angelis Libro di Milo di Angelis Cominciamo sul facile Con il poeta più noto I più bravi Sicuramente Contemporale Sì sì Il 51 Milo di Angelis L'intera linea spezzata Mondador Andiamo proprio sul banale Facciamo anche una sorta La grande Grossa editoria Anche punto capo È tanta roba Sì La grossa editoria Magari Toria Toria di poesia Di qualità Non è detto che poi Non sia più importante Quello che No no ma Non è solo un discorso Di qualità È chiaro che In certe case editrici Ormai la poesia La fanno Contro voglia Prima si faceva I sogni Con la narrativa Con le altre cose E poi La poesia per prestigio Oggi il prestigio Che viene dalla poesia È quasi invisibile Impalpabile Per cui Queste sono operazioni Di resistenza Sono resistenza Continua a dire Ma chiuderanno 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 Non chiudendo Di fatto Molte collare storiche Stanno chiudendo Insomma Però ogni tanto Capita Per esempio Ho scelto due poesie Di questo libro Che è del 2021 Quindi Accente Insomma In i tempi Della poesia Questa c'è un motivo Perché parla Di Ricordone Ah quindi E quindi Sentito la strapiombo E parla anche Di un personaggio Dice Là dove Il Monferrato Si distende Verso la Liguria In un paese Di poche creature Chiamato Ricordone L'ho incontrato L'ho incontrato Ed è rimasto Il ragazzo assorto Che sussurrava Parole Una per una Dai campi Si alzava Un profumo Di nebbia E quando Tacco ero Le tortore Decise Subito La fondo Sono solamente Ciò che ho detto Eppure Eppure Bisbigliò Inseguendo Di persona Ogni parola E ogni parola Svaniva lontano Nei campi Di una pena Essiccata Eppure Luigi Eppure Si fermò Impallidendo E si chinò Come per Accogliere a terra La frase Interrotta Eppure Sempre più grande E sempre più grande L'ombra Di ciò Che abbiamo Tacciuto Eh Sì Ok Ricordone Festura di Tenco Tenco E questo E questo è Una Beh Questa Cittocitucca Perché il caldone È qui Certo Tenco Comunque Ancora Una presenza Nella 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 musica Musica italiana Ma quello Che prende Di questo Poesia Che va ridetta Poi E' sempre Il fatto Che Milo Riesce A Cogliere Delle immagini Che sono Spuntate Dal nulla Tant'è L'ho incontrato E non dice Solo più avanti Dice Luigi Non è che sia così Evidente Ho incontrato Luigi Sono tutte Presenze Che affiorano Dal nulla Dalla nebbia E questa è un po' La vita Una poesia Io credo Che parli un po' A tutti Questo verso finale E' sempre più grande L'ombra Di ciò Che abbiamo Taciuto Cioè Quello che Che poi Muove un po' Un poeta Un artista Cioè Sapere che c'è Tante cose Da dire Che non si riesce Mai a dirle O a dirle Non correttamente Poi E' una poesia Apparentemente Semplice Perché non ci sono Rime Non ci sono Non c'è Struttura metrica Non ci sono Dicosillabi No Però Tutte queste Ripetizioni L'ho incontrato L'ho incontrato Eppure Eppure E' sempre più grande E' sempre più grande L'ombra E' la costruzione E anche lì Tutto fa costruzione Tutto fa costruzione Su questa Su questa poesia E' anche Sul prossimo Si potrebbe passare Un'ora Ecco Ciao Scusa Vorrei salutare Giorgio Olivieri Che tanto si era già connesso Da tagliolo Ciao Giorgio Quando tu leggi una poesia Ovviamente Leggi a letta Perché Non si fa mai Imprimare L'avventura Si Quindi questo Ma Tu vai A Cercare il sottotesto O no Eh beh si Devi cercare Devi cercare di raccogliere Tutto quello che c'è Tutto quello che è detto Quello che non è detto Quello che è È il sottotesto Beh ma È un insieme Di tutto ciò Che non è Evidentemente detto In maniera esplicita Nel testo Tutto quello che viene Accennato E la poesia è bella Per quello La prosa è bella Perché deve dire tutto Buona parte Insomma È molto più esplicita Sì La poesia è molto Implicita E c'è tutto questo alone Di silenzio Di bianco Allora Scusami Mi permetti un attimo Fa carità Allora Davanti alla porta girevole Questa è la mia poesia Scusa No Ti è subito prima E questa No 51 Mi chiedo scusa Ecco Mi strappiamo Sì sì Laddove il Monferrato Si distende Verso la rigua Ecco Già solo in questa frase Voi dovete Cogliere immediatamente Come sottotesto Le colline Le colline del Monferrato Che diventano Più dolci Da una parte Ma più ripide Perché si va verso Gli appennini Si va verso gli appennini Ma anche il fatto Gli appennini Si distende Si distende È una cosa di vita Sì E allora Che la notte Il territorio In un paese Di poche creature Chiamato Ricaldone Anche lì Tu vedi questo paesino E non persone Tu vedi questo paesino Con pochissime E sono Creature Creature Con pochissime luci Con Te lo immagini Proprio un paese Quasi abbandonato No? Diciamo usare la parola creatura Va oltre la persona Va oltre il che E allora Questa è la politica Anche di Mio De Angelis Ma trovo Di chi vista Sì No ma Adesso Certo Se tu riesci A A captare A A prendere Questa cosa qui Anche nel momento Della lettura Della stessa Della stessa Poesia Tu avrai Una Una capacità Di Di parlare Della poesia stessa Estremamente Più Appassionato Più E beh sì Tu vado ancora D'altro significato Anche perché Allora Tenete presente Che chi fa Letture di poesie In modo professionale Le legge Dalle 50 Alle 70 Volte Prima di declamare Molte volte Certo Luca parla Certo Sviscerandone Ogni Senza Stringola Senza Stravolgere Perché a volte Assistiamo a queste letture Che sono esibizioni Ma poi ti dico Un'altra cosa Come leggiamo Noi leggiamo il titolo Poi leggiamo la poesia Tu quando finisce Questa poesia Dici ma il titolo Strapium Che cosa c'entra Con la poesia Allora Ti dovrebbe obbligare A dire un attimo Cos'è Cosa c'entra Lo strapiumbo Lo strapiumbo Lo strapiumbo È La metafora Di Dove siamo noi Siamo sullo strapiumbo Verso nulla Siamo sullo strapiumbo Delle cose Che non riusciremmo Mai a dire Anche lì Ti obbliga Strapiumbo Non è che l'ha intitolata Tengono Non è che l'ha intitolata Bel paesino Piccolo Del Monferrato Non è poesia No Devi trovare il modo Di dirlo Dietro c'è un lavoro Quando uno dice Ma quello fatto È di getto Anche grandi poeti Sì Il lavoro è dietro Sì Sì Resterei su questo Tremalume Di Puster Secondo me sono I libri più belli Degli ultimi anni Li ho portati Tutti e due Per farmi compagnia Anche solo Per me Anche città Perché non ho scoperto Un libro solo E uno Poi Non sarà l'altra volta Che vieni Quindi Anche se Non veniamo Con di scorta Questo è un libro Su cui ho fatto Tremalume Su cui ho fatto Quella recensione Su cui ho scritto Sì Sì Quindi sai Ma mi Mi interessa Per esempio Questa poesia Questa si intitola Di nuovo Brevissima Anzi Un pochino più breve Dell'altra Autogrill Cantalupa Che arriva a Milano Autogrill Cantalupa C'è C'è L'autogrill C'è la carcetta Poco più Sì E c'è Autogrill Dovevano prendere Caffè Dalle presentazioni Interessante Vediamo Un'altra apparizione Vediamo cosa le dici Un'altra apparizione Più personale Perché Questo libro È tutto un libro Di apparizioni Fa i conti Con la propria vita Con il proprio passato Con le figure Che per lui Sono state importanti Anche se Non sono nessuno Non sono personaggi famosi Non sono apparizioni Davanti Alla porta Girevole In un profumo Di caffè Di vecchi panini Mentre scorre lento E poderoso Il fiume Dell'automobili Lontane L'ho incontrata Come si incontra Il calendario Di se stessi L'ho incontrata Ed era ancora lei La prima creatura Amata sulla terra La prima per sempre La vela che si inoltra Tra i giorni E raggiunge gli anni futuri Quando si raccolgono I frutti dispersi E si decide di farli O di non farli durare E lei era ferma In cima alle scale E dilagava il silenzio E i clacson Divennero sempre più teni Come la luce dei fanali La memoria risolta Il respiro Ormai muto Questa ripresa Pazzesca Il calendario Di se stessi Mi lascia molto Posso? Mi lascia molto Così Fa pensare Poi provate A immaginarvi La vostra vita Che vi squadernate Come si dice Sempre Spesso Un caluno si ferma Ma lei pensa Agli anni passati Il calendario Di se stessi Di sensibilità Che ci fa bene A noi A leggere Perché secondo me Non fa male Leggere un'Italia Perché tutti abbiamo La prima creatura Amata sulla terra Che poi abbiamo perso Poi magari incontriamo Il nordogrino Di notte A Cantalupa Mentre passano le macchine E restiamo Basiti Ti si apre Tutto il tuo calendario Esatto Da un'ora All'ora oggi Tutta la mia vita Guarda In quella figura lì C'è tutta la mia vita Sentimentale Ma c'è la mia vita Sono passati 50 anni 60 anni Certo Io sono diventato Ma qui sono Esatto Totalmente diversa Ma è sempre la stessa Salutiamo Gigi Anera Ciao Ciao Gigi Grande poeta Gigi Sì Anche poeta Poeta di donne Ah di donne Sì Lui scrive solo di donne Lui scrive solo di donne Vabbè 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 Donne sono Una quintessenza Poi come le fa Quinta a lui E sono Importanti Poi Gigi C'ha Una storia Alle spalle Più storie Alle spalle Sì Ecco Comunque Capite Sono due poesie Diciamo casuali Nel senso Ma sono state scelte Da Non sono casuali No Però Per far capire Il nostro ascoltatore Che non sono magari esperti Possiamo conoscere tanto come noi Cosa c'è Dietro Nella lettura Puoi fare tutto cosa vuoi Anche lì Bisognerebbe rileggere Ma i tempi verbali No Grammatica Grammatica Giusto per annoiare le otto di mattina No Il tempo della memoria È l'imperfetto E chi parla Passato prossimo L'ho incontrata Come si conta Il calendario L'ho incontrata Era ancora lei Eccetera Eccetera E poi a un certo punto E lei Era ferma In cima alle scale E dilagava il silenzio Perché non ci si stesse Sa cosa Che dire E i claxon Divennero Sempre più temi Come la luce dei fanali La memoria dissolta Il respiro Un remoto Si è passato Abbiamo passato Un remoto Si E i claxon Divennero Si è tornati Allora Lo accanto La visione Fatto succedere qualcosa I claxon Divennero Sempre più temi Di colpo Lui non sente più niente Non ha più percezione Che passano le auto Non ha più percezione Di cosa c'è intorno La luce dei fanali La memoria Si è risolta E il respiro È diventato mutuo Il passato remoto Ci fa capire Che è successo qualcosa Perché la grammatica Ci dice che È quello Il tempo degli avvenimenti Ti ricordi Quando ho detto Che Mi si è aperto Un mondo Quella volta Perché Ho capito Anche Alcune cose Che magari Devi per scontato Non leggere una poesia Perché Ragionandoci sopra La cosa che magari Non facciamo Non ci soppermiamo a fare Arrivi a ragionare Ecco perché bisogna Rileggerla Perché questi sono dettagli Ora io ho toccato Un punto Certo Ma Leggere poesie è quello È divertirsi Non è un lavoro No Deve essere quello Non è che uno Puro legge 100 libri Se ce l'ha come lavoro Come passione Vera Ma altrimenti È importante Quella famosa poltrona Col Col Tè Esatto Qualche minutino Esatto Esatto Ragazzi Ovviamente Per noi Scusa Sì Volevo solo raccontare I nostri amici Anche gli amici di Telecupole Che si stanno vedendo Indifferita Che per noi Questo è È un esperimento Ne abbiamo pensato Con Mauro Di provare A portare Alla mattina Quando uno Corre Pronto A una giornata Complicata Un qualcosa Che poi magari Durante il giorno Quando si ferma Mi fa pensare Ma questa è questa mattina Andato quello Ma Poi un po' Vedi rumore Quando vai a casa In macchina Ma ti fermi a pensare Ma la poesia Diceva questa Vedi La cantalupa La cantalupa E dici Ah ma c'è quella poesia Ci ha fatto pensare Ma giornateci ragazzi Diteci poi cosa ne pensate E intanto durante il giorno Leggeremo tutto quello Che scrivete Che commenterete Oppure ci sentiamo E piacerebbe sapere Questo esperimento Come Sì Come Anch'io Come sapere Vabbè dai Scommesse Ma se uno Non le fa Prove Non saprà mai Sono sempre scommesse Eh vabbè Vediamo di vincerla Intanto torniamo Alle notizie Veloci Allora Intanto C'è come tutti gli anni Viene ha fatto l'elenco Degli onorevoli E dei senatori Più ricchi E meno ricchi Sì E vito che Giuseppe Piangeva C'è anche Somma Oru Somma Sì Oru Quello a quale Ha dato il mutuo Ha dato il mutuo A 270 mila euro Con quel reddito Sì Con 9150 euro All'anno All'anno Sì Gli hanno dato Ma lui ha detto Che ha comprato la casa Con quel reddito Deve spiegarci solo Come ha fatto Perché Sarbbe interessante Però Però lui Non sapeva niente Della moglie Con 9 mila euro Mantieneva anche la moglie Vestita solo di Wittor Ci può fare Poi Invece abbiamo Abbiamo il reddito Che come tu hai già detto Di Giuseppe A 35 mila euro Ma possiamo fare Vacanza cortina Mentre Quelli di destra No Quelli di destra Sono i chiveri Abbiamo picchetto Frattin Re degli immobili Con una trentina Di beni Sì Tra case Terreni 1,5 milioni Di euro Dichiarati L'anno scorso Da Giulio Tremonti Ma Sono attività professionali Di un certo livello Quindi Mi sembra Mi sembra Pretestuoso Voler dire Che la sinistra È povera E il reddito È rosa No Ma figurati Giuseppe Dicono che Possa permettersi Perché hanno vendito Così alto Negli anni passati Sì Poi Adesso È entrato in politica Ha buttato fuori Oltre l'otacolo E il reddito E ci risentono La media I parlamentari Al di là Del loro stipendio Sono tutti Sono redditi netti Al di fuori Di quello parlamentare Perché quello parlamentare Non è stato Non era eletto Però Gli altri Comunque li va a togliere Dal reddito Perché quello Non lo panitasse Sopra Questo me lo dà Una notizia Di Torino Non ci sono sbagliati Questa volta La GDL Il sindacato Sovietico Ha letto Semeraro Gabriella Semeraro Al vertici E probabilmente Questa volta Non hanno suonato L'inno Della gloriosa Unione Sovietica Mi dispiace Perché Potevano Così Rivendicare La loro civiltà E la loro democrazia Che sono sempre Stati ben dimostrati Dai È stata una roba terribile L'aeroporto di Torino Traffico record Nel 2022 Boom Dell'8 gennaio L'aeroporto di Torino Sta diventando Un hub Importante Anche solo per il turismo Però Ci piace la cosa Se continua a crescere così Inventerà di nuovo Importante Anche Il famoso aeroporto Ciappa Ciappa Bau Bau Che era quello di Cuneo Cuneo Di San Vigiano Le Valdigi Sì Le Valdigi Ma C'era stato un abbocamento Con Ryan Air Poi non c'era fatto niente No Era solo per portare giù I propri Liedi Per andare a volare Bongolfiera Ah sì Il mio È quello Li portano due Le loro bongolfiere Con un aereo Appoggio E Niente Quindi Quanto qui Sto scoprendo Velocemente Anche Inutile a scorrere Perché Ti ha puntato Guardate Volate davvero Guardavo l'ora Ragazzi Scusa Sì Questa qui è bellissima Perché Non la conosce Praticamente nessuno Però Loro Loro sì È la Media Factory Sì One Podcast Sì Lo conosce No One Podcast No Lo conosce Vuola lo streaming Con 14 milioni di utenti Sedi che è la proprietà C'è di Ma per favore Mi fai ve la cantata E ve la fin Ma robe da mangi Allora ragazzi Noi abbiamo anche Cantato Suonato Dei testi E delle poesie Quindi Oggi abbiamo Cantato Soprattutto Cantato Cantato Sì Vorrei che Vorrei che Non Che vi dimenticasse Di questa performance Noi ragazzi Amaro Ferrelli Sei stato con noi Sì Molto 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 Probabilmente Perché a noi piace molto E alcuni ascoltatori Ci hanno dato l'ok Lei diventerà Una rubrica Fissa Per cercare di capire Insieme Noi come voi Che cosa vuol dire Leggere una poesia E capirla Soprattutto Ricordiamo Che il turista Non vuole pensieri Io ricco E se volete Giocare bene a tennis Chiamate Barrettini Sì Intanto È uscito dai primi venti Ci vediamo domani Ciao a tutti Salve Ciao a tutti